Il messaggio che diamo è quello di avere un'idea di quello che si vuole fare, al diare il fatto che tu lo faccia nel paese in cui si è nato, al diare il fatto che tu vada fuori, non è giusto restare tanto per restare così, non è giusto partire tanto per partire, l'importante è avere ben chiaro in testa quello che si vuole fare, portare dietro tutto quello che hai imparato nelle tue precedenti esperienze, tutto quello che imparerai da un viaggio all'estero o da qualsiasi altro viaggio, tutto fa esperienza, tutto è un bagaglio di esperienze, ma credo